Hanno preso due giochini qua, dopo sono spostati nel quarto switch, hanno preso uno, due, tre, quattro giochini, messi tutti in borsa, nel giro due minuti neanche, presi, usciti, tanti taccheggi e una sonata. Sono entrati in un negozio di videogiochi che si trova all'interno di un centro commerciale e a retino e sotto gli occhi di un dipendente hanno portato via oltre 400 euro di merce. Il tutto è stato immortalato dalle telecamere di video e sorveglianze e poi postato sui social network. L'abbiamo fatto sicuramente per cercare di trovare i responsabili, di far sì che qualcuno ci aiuti a trovare i responsabili. Abbiamo fatto la denuncia questa mattina, quindi i carabinieri già sanno tutto, hanno il filmato, hanno tutto quanto e speriamo ora che in qualche modo di ritrovare almeno la merce. Sembrano dei professionisti perché fatto così semplice, senza tante preoccupazioni se qualcuno li vede o meno, è incredibile. Il negozio era già stato preso di mira tre anni fa, nel febbraio 2015. Anche in quel caso il titolare è deciso di postare le immagini delle telecamere di videosorveglianza nel tentativo di risalire all'identità del responsabile. Si sono rivisti in televisione e ci hanno riportato la rifluttiva. Speriamo che anche stavolta succeda la stessa cosa. Come ci si sente però? Amareggiati. Ci sento amareggiati perché stiamo tutto il giorno qui a lavorare ed è brutto che succeda una cosa del genere.